Il Vaticano ape a trans e gay, nulla osta anche ai transessuali affinché possano chiedere e ricevere il battesimo. Possono anche essere padrini e testimoni di nozze in chiesa, via libera anche a padrini omosessuali che convivono con un'altra persona, basta che conducano una vita conforme alla fede. Sono queste le indicazioni che arrivano dal di Castero per la dottrina della fede guidato dal cardinale Victor Manuel Fernandez e sono state esplicitamente approvate da Papa Francesco che ha controfirmato il documento pubblicato. L'occasione per questa apertura rivoluzionaria arriva dalle risposte ad alcuni quesiti posti al di Castero da Monsignor José Negri, Vescovo di Santo Amaro in Brasile, lo scorso luglio. Le domande riguardavano la possibile partecipazione ai sacramenti del battesimo e del matrimonio da parte di persone transessuali e di persone omoaffettive. Un transessuale che si fosse anche sottoposto a trattamento ormonale e ad intervento chirurgico di attribuzione di sesso può ricevere il battesimo alle medesime condizioni degli altri fedeli. Se non vi sono situazioni in cui c'è il rischio di generare pubblico scandalo o disorientamento nei fedeli. Nel caso di bambini o adolescenti con problematiche di natura transessuale, se ben preparati e disposti, questi possono ricevere il battesimo e questa l'indicazione del Vaticano. Si affronta anche il problema dei genitori gay e di quelli che hanno avuto il figlio attraverso la gestazione per altri. Due persone omoaffettive possono figurare come genitori di un bambino che deve essere battezzato e che fu adottato o ottenuto con altri metodi come l'utero in affitto chiedeva al Vaticano il Vescovo del Brasile. La risposta è il dicastello della fede. Perché il bambino venga battezzato ci deve essere la fondata speranza che sarà educato nella religione cattolica. Inoltre non c'è nulla nella vigente legislazione canonica universale che proibisca ad una persona transgender di essere testimone di un matrimonio. Lo stesso vale per una persona omosessuale anche se convive more uxorio. L'unica riserva è sulla possibilità di fare da padrini o madrine ad un battesimo. Se conviventi la situazione deve essere saggiamente ponderata, ha detto il Vaticano. Sono tutte risposte in punta di diritto canonico, ma è immaginabile che scateneranno polemiche.